Allora, se tu pensi che io in Canada mi sono trovato come se fosse a casa mia, in Romania mi sono trovato come se fosse, mi trovo come a casa mia, guarda, in Romania come a casa mia, dappertutto, ho amici dappertutto, dappertutto, in Polonia ho amici, capito, mi trovo bene dappertutto, in Vietnam, i vietnamiti sono i miei fratellini, i miei più cari amici, i vietnamiti, non solo per la storia di Ho Chi Minh, capito? Perciò, capisci, questo fatto di, cioè io vado in un posto, quella è la mia patria, dove lavoro, questo mi sembra il sentimento giusto, no? Tu vai a lavorare in un posto, trovi lavoro, trovi possibilità, invece c'è gente che odia quelli da cui dicevi bene, eh?